bene questo qua il primo stop di oggi e diciamo che quello anche un po più forse interessante poi dopo ne vedremo molti altri comunque sostanzialmente la cosa importante è quel costone che vedete di fronte a voi nei grandi fiumi di pianura soprattutto le punte c'è quelle zone più arricchite dove sostanzialmente andiamo poi vedere dopo c'è oro e cercato di ovviamente e specialmente cercano le località più arricchite allora perché vi dico questo semplicemente perché loro che trovate nelle punte deve arrivare da qualche parte adesso nella parte più semplice del discorso arriva dei costoni di erosione c'è queste sfonde come potete vedere qua davanti che sono soprattutto verticali in questo tratto verticale è dovuto proprio l'erosione ogni volta che il fiume va in piena l'acqua si alza questa porzione qua dove siamo adesso è allagata ovviamente quella invece credete di fronte e bagnata semplicemente le acqua vanno sbattere contro soprattutto perché il fiume facendo curva l'acqua vedete a una direzione che va a sbattere contro il muraglione adesso l'erosione che vedete adesso sostanzialmente assente l'erosione solo presente durante le piene per questo le piene sono dei momenti fondamentali per ricercatori d'oro e soprattutto nei giorni dopo la piena quando l'acqua scende sono quei giorni in cui ci sono delle piccole corse all'oro veri e propri perché rendete di conto che adesso questo muraglione io non vedo neanche la fine talmente è vasto capite che mediamente se si trattasse di due decimi di grammo metro cubo eroso si parlerebbe che la punta magari sarebbe richiesta di decini di grammi adesso al di là del valore vero e proprio però la sostanza qual è e che dove finisce muraglione inizia la punta verso valle in teoria dove c'è la punta dovrebbe esserci buona parte dell'oro eroso dei sedimenti che sono stati spostati durante la piena quindi ovviamente più la piena intensa più acqua c'è più l'acqua va a erodere il costone più il costone veneroso più oro viene depositato a valle questa è la teoria proprio linea di massima concreta quindi voi come cercate una punta cosa cercate tendenzialmente le curve di un fiume dove trovate le curve dove c'è il lato convesso di solito c'è la scarpata dove è semplicemente l'acqua erode poco più a valle di solito c'è la punta questa è proprio la teoria più semplice che possa esistere talvolta non si deposita tutto l'oro subito dopo la curva ad esempio in questo caso non ho ancora guardato comunque se l'oro è molto fine tende a viaggiare un po di più quelle più intense vanno a roder di più spostano più materiale c'è più oro ma se queste fine si muove anche di più verso valle quindi magari non si ferma nella prima punta ma si ferma magari quella successiva e oppure magari non si ferma in quella punta si ferma dal lato opposto però queste aree orifere qualcuno potenzialmente è gelato prima di voi non è che è difficile che siete i primi a trovare una zona molto ricca caso in cui si usano le canaline strumenti proprio che a fine vanno mimare il corso del fiume come loro si ferma tre ciottoli si ferma nella trappola canalina e il cercatore usa la canalina perché invece di fare 10 secchielli ne fa magari 30 siamo secondo stop abbiamo ancora tutto questo sono di prima però ci sono delle cose interessanti quello che vedete adesso vedete due cose sostanzialmente vedete il costone proprio che quello verticale composto da sedimenti alluvionali se andassimo vederla con poce sono ciottoli ghiaie sabbie e lì uno dice in maniera proprio semplicistica che ci passava il fiume in realtà è vero perché solo il fiume deposita come vedete ciottoli ghiaie sabbie anche quel deposito è fatto così però noi lo vediamo dal lato è come fosse una fetta di torta lo vediamo la fetta dal lato qui vediamo una sezione di quello che c'è in quel deposito in quel sedimento adesso quello che voglio farvi notare è che in realtà con un po ovviamente di attenzione ci sono dei livelli ci sono quello che si chiamano stratificazioni se seguite un po con lo sguardo il colore non è omogeneo adesso partendo dall'alto verso il basso vedete che il primo livello prendo dato sul basso ancora il marrone scuro ancora il marrone scendendo invece avete 18 di sporgere di colore grigio ok parliamo del marrone il parlo il marrone come potete osservare non c'ha ciottoli e solo marrone e terra sostanzialmente ok con po c'è un po di limo c'è un po di argilla e questo motivo principale per cui sopra ci sono i campi le piante ok scendendo invece cambia inizia e se ci deposito luminare vero e proprio perché vi dico questo per questo è una cosa abbastanza importante se voi andate nel klondike no yukon giù di là e magari alcuni voi guardano tipo la febbre loro queste qua la prima cosa che fanno e rimuovere quello che chiamano overburden semplicemente non gli interessa la prima cosa che non interessa è il suolo cioè semplicemente dove attacchiscono le piante quello che noi adesso qua il suolo c'è l'overburden sarebbe tutto questo edimento marrone marroncino partendo dall'alto c'è dove c'è il campo fino a quando arriva il grigio quindi io credo che c'è un metro di overburden ok questo se uno vuole se mettere una coltivazione dovrebbe toglierlo tutto perché dentro non c'è oro è talmente fine sedimento che di solito loro in quel contesto non viaggia quindi quello è semplicemente sterile andrebbe tolto e rimosso adesso un klondike lo vedete che lo buttano sui lati ne fanno mucchi poi in realtà non vi fanno vedere ma lo ripristinano alla fine anche perché le piante non crescono sul ciottolame così crescono bene invece su quel sedimento la quindi logicamente loro hanno anche un vincolo di ripristino noi cercatori aromato reali in teoria anche noi abbiamo un vincolo di ripristino ovviamente non lavorando con caterpillar sarà una cosa più limitata perché facciamo anche di buchi più limitati adesso scendendo vedete queste stratificazioni cosa sono è semplicemente il corso delle piene di solito il fiume cambia su morfologia solo durante le piene se no altrimenti ci sono questi periodi lunghissimi tra una piene e l'altra magari mesi si parla anche lunghi è relativo dipende che piena prendiamo l'esame comunque più il fiume va in piena più fiume cambia su morfologia e più tende a formare arricchimenti questo è sempre un po un mantra che dovete imparare sostanzialmente se la piena una piena minore un po bruttina di solito non carica le punte se la piena importante non solo carica le punte ma a volte le sposta completamente non esistono più quelle che c'era e cambia e per quello che uno dà anche il nome alle punte quel livello feretizzato che vedete la tendenzialmente i sedimenti che voi vedete in quel costone hanno delle età diverse scendendo verso il basso tendono a essere più vecchi al contrario salendo verso il bosco tendono a essere più giovani quindi scendendo anche più in basso è normale vedere dei sedimenti tendenzialmente più colorati più rossicci più arancioni a volte marroncini semplicemente sono gli ossidi idrossi di ferro c'è minerali talvolta patine composte da ferro ossigeno a volte c'è dell'acqua che lo rendono idrossi ma soprattutto in vari molto importante quei 10 centimetri che sono praticamente al tetto cioè il top di quelli dell'offertizzato faccio un esempio io ce l'ho fertilizzato che arriva fino qua e sopra inizia il grigio cioè le recente ok questi 10 centimetri che dove finisce il rosso inizia grigio sono di solito molto molto arricchiti in oro perché il ferretizzato di solito è più difficile che venga eroso dal fiume di conseguenza se è difficile che venga eroso dal fiume tende a depositarsi più oro la canetta funziona sul principio che le trappole anche se tu passi sopra la sabbia rimangono lì non è che vengono erose trappole spariscono sono loro andrebbe anche lui via quel rossiccio funziona la stessa maniera dei trappoli a canaletta rimanendo lì nel momento da piena loro passa sopra e va a depositarsi nei ciottoli che rimangono lì che non si spostano perché sennò durante una piena tutto quello che adesso voi vedete è mobile si sposta tutto e anche loro di conseguenza ma c'è quello no e quindi quello fa un fondo ferretizzato si chiama fake bedrock si chiama falso bedrock sono tanti termini per definirlo di solito quei sono ottimi posti adesso è abbastanza impraticabile da puntista pratico cioè potremmo andare la fare un test eccetera entrare nel costone io vi dico subito è una tecnica un po poco pratica andare a lavorare un costone del genere intanto è pericoloso e poi secondo grado non avete tutto quel materiale arricchito non è arricchito rimuovere tutto quel sedimento che vedete che si è spostato che ha appoggiato al costone vedete che c'è un comunque una falda detritica si dice tutto questo edimento lì è aurifero logicamente perché se il costone è aurifero questo di mezzo arriva dal costone e quindi quel sedimento è aurifero perché dovete andare a scavare il costone se potete già scavare quel sedimento smosso grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo punto, con un altro piatto faresti diversamente. Con la Turopen hai un'uscita che è rotazionale. Quindi fai così. Assomiglia un po' a un piatto concentratore. A qualche puntino c'è poco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.